e pareggio pesantissimo per la Gelbison di Vallo della Lucania primo punto nel campionato di serie C ad Avellino sullo stadio Partenio Lombardi un campo importante storico contro una formazione quella dell'Avellino che va per la maggiore. L'unico gruppi chiamati a riscatto dopo la sconfitta inaugurale nel match dell'Adriatico-Cornacchia contro il Pescara. Stessa situazione per la Gelbison che non ha bagnato l'esordio tra i professionisti nel migliore dei modi. Ha perduto in casa uno a tre sul neutro di Pagani contro la Juve Stabia. I biancoverdi in attacco all'inizio presentano Di Gaudio nel tridente con Murano e Knut. La Gelbison invece ha fatto un po' di turnover in vista anche della sfida di mercoledì contro il Potenza a Pagani. Il 3-4-3 di Esposito è stato alla fine un modulo che si è rivelato molto opportuno con Graziani a sostegno di Desena e Sanè. L'Avellino di Taurino è parso lento, dezioso e con scarse idee. La Gelbison ha a sua volta modellato la sua prestazione con una condotta di gara molto intelligente perché ha saputo contenere gli Irpini i quali si vedevano essere una buonissima squadra per cui la razionalità con la quale la formazione di Vallo della Locania ha affrontato l'incontro è stata la carta vincente per uscire indene da un campo storico ricco di suggestioni ma anche protagonista in passato del grande calcio. I Lupi devono cambiare molto se vogliono continuare a pensare in grande e vincere il campionato cosa alla portata dei biancoverdi. La Gelbison deve mantenere l'assetto giusto e affrontare le partite come ha fatto d'Avellino studiando gli avversari non lasciando nulla al caso e portando rispetto per tutti gli avversari ma pretendendolo anche. Il finale di partita è molto importante per il rosso blu ma lascia l'ammaro in bocca ad un Avellino che non ha certamente accontentato i suoi tifosi i quali l'hanno fischiato a più riprese durante e dopo la gara. Per Taurino ed Esposito c'è molto da lavorare anche se per obiettivi diversi. Non c'è il tempo di riposarsi. Mercoledì si torna in campo e per entrambi sarà comunque una gara molto difficile.